dopo l'episodio avvenuto nella casa del grande fratello con l'ingresso di carmen russo attualmente presente insieme a suo marito enzo paolo turchi si è parlato molto di una crisi tra i due in recenti interviste carmen ha voluto fare chiarezza sulla loro situazione sentimentale e sull'accaduto nel reality ha confermato la crisi di enzo paolo ma vediamo cosa specificamente detto in proposito uno dei momenti più seguiti di questa edizione del grande fratello è stato l'incontro tra carmen russo ed enzo paolo turchi in un momento di sconforto il coreografo voleva abbandonare il programma e alfonso signorini ha pensato di farlo incontrare con sua moglie per convincerlo a restare tuttavia l'ingresso di carmen ha avuto l'effetto opposto vedendo sua moglie enzo paolo ha rafforzato la sua decisione di lasciare il reality non riuscendo più a stare lontano dalla sua famiglia alcune frasi di enzo paolo hanno fatto supporre una crisi tra lui e carmen come se vuole rimanere lei per me va bene la sento distante diversa ho paura che sia cambiato qualcosa sono disposto a farmi da parte se lei non è più felice con me carmen ha deciso di restare nella casa per una settimana intera per aiutare il marito a superare il momento di crisi e la paura di perderla la coppia ha poi fatto pace e si sono riconciliati confermandosi una delle più longeve della televisione italiana enzo paolo aveva già affrontato una crisi simile durante la sua partecipazione all'isola dei famosi ma anche in quel caso grazie 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 grazie